Alessandrini che è qui con me insieme al sindaco uscente Luigi Albore Mascia. Alessandrini, fermazione netta, stensionismo altissimo lo abbiamo detto ma oggi è il giorno dopo. Lei è già andato in conferenza stampa questa mattina, adesso comincia il progetto. Senz'altro, abbiamo appunto concluso questa lunga notte che per quanto mi riguarda non mi ha visto gran che dormire ma immagino che succeda sempre così quando si vincono le elezioni. Ne vale certamente la pena. Abbiamo adesso naturalmente svolto una serie plurime di incontri con la stampa ma da oggi pomeriggio si inizia il lavoro perché per questo siamo stati eletti per rispondere ai bisogni, in qualche modo alle istanze, alle sollecitazioni che provengono dal nostro corpo elettorale, dalla città di Pescara. Eccole le immagini della conferenza stampa, ha detto si inizia il lavoro, cioè si parte da dove subito? Si parte innanzitutto su una ricognizione che ritengo preliminare circa lo stato delle finanze di questo comune perché la finanza pubblica è questione che va trattata con molta attenzione. Luigi Albore Mascia, lo stato delle finanze di questo comune qual è? Il stato delle finanze è quello certificato dai revisori dei conti sugli equilibri di bilancio e sulla necessità cronica che hanno tutti i comuni comunque di guardare alla cassa e di recuperare crediti di continuo però il bilancio è assolutamente certificato e quindi credo che Alessandrino non abbia nessun tipo di... Siamo in rosso o siamo in pareggio, siamo inutile? Siamo in pareggio come tutti i bilanci degli enti pubblici, non ci sono rossi, non ci sono utili, non è una società per azioni, è una società, è un bilancio di un ente pubblico. Sono utili nel senso, ci sono soldi in cassa? Ci sono soldi in cassa, ce ne sono altri da recuperare che derivano ovviamente dal sistema di imposizione e tributario generale che riguarda tutti i comuni, avrà da lavorare Alessandrini su questo e come è normale che sia per tutti i sindaci e credo per tutti coloro che si accingono a guidare un ente pubblico in tempi molto difficili come questi. Vorrei da entrambi una risposta proprio monosillabo. Lei ha qualcosa da rimproverarsi, qualcosa che avrebbe voluto, dovuto fare per vincere di nuovo? Assolutamente no. Avrei solo sperato che il centrodestra fosse unito intorno alla mia persona ma questo non è di peso da me. Alessandrini, altissimo il distacco da Mascia, però altissimo l'astenzionismo. Anche per lei la domanda, avrebbe voluto parlare di più e meglio a chi non è andato a votare? Certamente si può fare di più. Il dato dell'astenzionismo c'è stato, però mi pare anche che il dato uscito dalle urne sia molto chiaro e da questo intendo ripartire. Bene, intanto questo collegamento noi lo proseguiamo.